Salve a tutti, sono Viviana Cianciulli, sono giornalista, sono editore e direttore responsabile di una testata giornalistica cartacea online di nome Informa Press. La formazione esperienziale attraverso la gamification rende la formazione più veloce, sicuramente molto più smart e rispendibile anche a livello aziendale in un modo molto più produttivo. Il change management generazionale è di certo necessario sia per la crescita, per lo sviluppo e per l'innovazione tecnologica aziendale, ma anche per la competitività sul mercato e della stessa azienda. Grazie. Grazie.